Lanterna a tutti ragazzi, qui SlimeDark e oggi siamo di nuovo qui con la nostra carriera su FIFA21, sempre con la Sampdoria. Nell'ultimo episodio dopo la vittoria, abbastanza staripante con quell'euro-goal di Murgia, è passato un po' di tempo per me, siamo al momento nella pausa nazionale e in questo episodio ci sarà qualche partita interessante. Innanzitutto saremo contro il Cagliari in casa, poi avremo di nuovo la Champions League con il Copenhagen, sperando di far meglio dell'ultimo episodio, comunque perché abbiamo tenuto risultati per quanto mi riguarda un po' scarsi con la squadra sbagliata. Abbiamo una partita contro l'Atalanta, Benevento subito dopo, Sassuolo e poi se ci sto dentro, cosa che cercherei di fare, è avere il ritorno contro il Copenhagen e poi se ci sto dentro, proprio qua tanto però, la partita contro il Genoa. Qualche mezza partita potrei andarla quasi a simulare, diciamola in tutta tranquillità. Allora, dopo aver aspettato per un'infinità e continuando a simulare, andiamoci a giocare la prima partita contro il Cagliari, giocherò la squadra diciamo un po' più scarsa, vedrò anche di rimetterla un attimo a posto perché comunque, diciamo la formazione B voglio usare perché comunque è il Cagliari e vediamo un po'. Ce l'andiamo a giocare, ci vediamo in campo ragazzi. Attenzione, azione complessa della Samp, scatto di Edinson, palla al centro per favore, niente. Ho sbagliato, dovevo crossarla. Bucco, buco! Bravissimo Audero, questo sarebbe stato gol, 100%. Tiro debole, però non stiamo riuscendo ad uscire dall'area, cioè a fare azioni offensive pericolose quantomeno. Attenzione, palla per Edinson, ti ho già visto. Norman, attenzione Norman! Al 42, 43esimo. Prima azione potenziale, bella ripartenza, sì gli hanno aggiunto la faccia, devo dire. Vediamo un attimo, bello devo dire, ripartenza amicidiale, l'avevo detto anche per Luigi Pardo. Ok, ok, molto pericoloso però noto sempre con piacere che nel far salire la squadra Edinson ha una marcia in più rispetto ad altri giocatori che ho provato ad usare. Attenzione, Jack Buonaventura! A questo punto tentalo! Madonna! Vabbè il 45esimo, non lo fare troppo che c'è l'infortunio facile. Subito, raddoppio della Samp, 2-0. Perfetto, per quanto mi riguarda. Perché possiamo gestircelo un po' di più questa partita. È il Cagliari che è a decimo in classifica in questo momento, non pensavo. Vabbè, ha tirato una fucilata Jack Buonaventura con il 41. I numeri non sono il mio forte all'interno delle mie squadre, qualsiasi sport. Attenzione, questo è un bel gol. Questo è un bel gol del Cagliari. Proprio quando ho chiesto i cambi per Marco Rogg, dovrebbe essere. Però questo è un bel gol al volo, difesa completamente scoperta e niente. Ho chiesto pure i cambi, bel gol, niente da dire. Madonna, il Cagliari. Ragazzi, incredibile proprio perché su delle palle simili c'era Udero che non era mai uscito di pugni. Adesso ha deciso di uscire con i pugni. Finisce questa partita che è stata una sofferenza negli ultimi minuti. Era da un po' che non giocavo seriamente. Si è visto, però riusciamo a vincerla. 2-1, onesto. I nostri ragazzi entrati dopo hanno fatto un po' malino, però con i due gol un po' fortunelli e ci è bastato quello. È stata una partita un bel po' complessa. Due tiri, due gol noi. Va così. Ok, mentre noto che c'è gol di Buonaventura, si gira la vittoria contro la squadra Cagliari. Rivedo con grande piacere che c'è in primo piano un culo di Buonaventura. Però adesso dobbiamo andarci a giocare la partita contro il Copenaghen, l'ultima del nostro girone. Nel senso, l'ultima partita contro l'ultima effettiva del nostro girone. E per forza di cose, andando a fare la conferenza stampa, devo per forza fare il risultato oggi. Perché sta andando male, diciamo così. Mamma mia, questo è il ritorno di Morten Thorsby contro la Sampdoria. L'avevo scambiato perché c'era stato lo scambio Thorsby più un po' di soldi per Norman. Quindi è il ritorno di Thorsby. Il 90% mi fa il gol. Attenzione, attenzione! Subito il gol di Eddie, subito. Al quarto, quinto minuto. Bel giro a palla, sono riuscito un po' a imbambolarli. Palla lì, taglia dentro. Difesa e da lì si può tranquillamente segnare. Di sinistro subito, subito scoppiettanti così. Forza! Attenzione, un errore difensivo? Eddie? Parata, parata del loro portiere. Attenzione, attenzione! E mentre dice che è la mia centesima panchina sulla panchina della Sampdoria, si va a fare il 2-0 con Raffaele Aou. Cos'è questa esultanza? Va bene, 2-0 contro il Copenagher. In casa, fondamentale. Per risollevare un po'... Beh, mamma mia, qua sul primo palla aveva tirato una fucilata. Sono contento, buono, buono, buono. In Champions, 5 gol nelle ultime tre partite. Bravo Leao, eh? Sta facendo benino, devo dire, in Champions. Attenzione, altra palla per Leao. È praticamente da solo. A questo punto, tirala! Ed è 3-0, signore, al 25esimo. Stiamo devastando il Copenaghen. Ma me lo poteva aspettare, sarò sincero. Li stiamo devastando, non ce n'è per nessuno. E da quell'angolazione in questo gioco si può... Una pratteria si può tranquillamente segnare. Il portiere poteva fare qualcosina di più, ma è sempre Leao. Sesto gol nelle ultime tre partite. Questa nemmeno finita di Champions. Complimento. Attenzione. Ah, questo è un errore difensivo. Tira la fresh air. 4-0. E andiamo a prendercelo sto girone. Rimontiamo un po', che al momento, nonostante questo risultato, saremmo tipo terzi. Mio Dio. Sì, Gliari. Vai così. Allora, 4-0. Metà partita. Finisce tra poco. E poi simulo, perché sul 4-0 non hanno fatto ancora un tiro. Lascio tutto nelle mani del gioco. Ma tripletta di Leao in un tempo? Ok, adesso schippa pure l'esultanza, perché non c'è bisogno, ma... L'ho crossata in mezzo, non ci stavo nemmeno sperando, ragazzi. 5-0. Allora, partita che finisce 6-0. E' stato una... Ha segnato di nuovo fair sharing. Quindi in questa partita c'è stato golden ketia. Adesso... Andiamo un attimo a vedere. Doppietta di Leao, golden ketia, doppietta di fair sharing. E via era. Se volessi vedere gli assist... Allora, dopo questo 6-0 ce l'andiamo a giocare contro l'Atalanta, che è in zona retrocessione. Io non riesco a capire com'è possibile. Ho aperto sulla classifica per andare a vedere un po' come sono. Sono diciottesimi al momento con... In realtà, nessuna vittoria ancora. Quattro pareggi e quattro sconfitte. Prova a farla simulare un attimo rapidamente. Poi prova a subentrare io al massimo. Attenzione. Gol di Eddy. Pareggia l'Atalanta con Gomez. A questo punto direi di subentrare io. No, che è sto buco! Gol di Asensio, ragazzi. Però non ci credo qui questi bucchi difensivi. Va bene. Va bene. L'Atalanta ha segnato il 3-1. Complimenti, devo dire, perché non hanno fatto un tiro in tutto il primo tempo. Quando sono subentratto io dopo l'1-1, chiaramente... Non lo so. Secondo me adesso dovevano fare la squadra piccola, perché le squadre in difficoltà devono rubare sempre punti alle grandi. In questo momento loro sono la piccola, perché sono diciottesimi. E giustamente ci rubano tre punti. La seconda sconfitta arriva con la diciottesima. Che devo dire? Non posso che accettare. Sarò sincero, mi dà fastidio perdere le partite così, però, chiaramente. Ok, andiamocela a giocare contro il Benevento. Sarà una partita complessa. Speriamo di giocare con la nostra miglior squadra B. Però di andarcela a giocare per vincere. Attenzione di Francesco! Tira la parata! Su un'azione anche abbastanza... Non stava andando dove avrei voluto, però bella parata. Dai. L'ho visto! No! No! No, l'avevo vista sta roba, però. Che due coglioni! Matador! Matador! Matador, col 30? Cos'è? Non ti si può vedere. Eh, no! Che ti spacchi la schiena a fare sta roba. Va bene. Gol! Bello anche. Devo aggiungere. Però sono copertissimi, come al solito. Invenzione tutta di Jack Bonaventura, questa. Dai! Ragazzi, io non so mai come farvi vedere, no, il montaggio. Però realmente hanno fatto 20 minuti di possesso palla, di palleggio puro, dove non puoi raggiungerglielo il pallone. Che bello che non si muove nessuno. Stiamo perdendo, cazzo. Un po' di voglia di vivere, ragazzi. Questo è Cavani, invece, con forte di testa. Guarda che un cross perfetto lo smerda così. Guarda, guarda la mia linea difensiva. La padula tripletta in 43 minuti. Andiamo. Dai, è imbarazzante, però, giocare così. Anche qua, 17esimi in classifica, giustamente mi devono rubare punti. Fanculo, dai! Valla a prendere sta palla, valla a pigliare. Pigliala! E niente, non si può. Non esultare così! Stiamo perdendo, Cavani! Attenzione, Giulio Maggiore. Murato! Murato! Io vorrei invitare quelli di Iei a giocare, perché ha qualsiasi difficoltà. Perché quando devi perdere, adesso sfuriata, spero abbastanza breve, quando devi perdere, ogni singolo rimpallo non va bene. I giocatori avversari hanno una velocità nei movimenti incredibilmente superiore rispetto a quella dei tuoi giocatori. E io, in base ad alcune animazioni che ci sono state, avevo già capito che per loro era praticamente impossibile perdere questa partita. Ok, andiamo a giocare contro il Sassuolo. C'è una conferenza stampa. Buona stagione finora. Per andare... Avete preso i posti per andare in Champions League? Certo, va bene. Parata, miracolo di consigli. Se c'è ancora consigli nel Sassuolo. Da un metro. Bel riflesso. Attenzione. Eddie! Per... Perciun! Gol! Gol, cazzo! Subito in vantaggio. E vai sta verticale un po'. Bella assist qua. Io in realtà l'avevo già passata subito a fresheren. Mi va bene così, però. Abbiamo segnato 1-0 e via. Si deve volare questa partita. Si deve volare. Bravissimo, Udero! Bravissimo! Leao. Tira un po' del cazzo. Oh, attenzione! Fuorigioco, fuorigioco. Fuorigioco. Sì, l'ho vista dopo. Porca troia. Il giocatore non deve essersi accorto del tischio. E ha proseguito l'azione. Lo vede? Può mettere da lì. E subito dopo il fuorigioco! Subito! Porca troia! Subito dopo il fuorigioco! Leao la mette! La mette! Cazzo! Guardalo come spaccalo che diagonale! Devo fare dei cambi adesso. Fuorigioco di Leao. Ve l'ha fatto un gol incredibile. Ma è fuorigioco. Oh no. Mamma mia che cosa difensiva di Piquet. Per una volta si è fatto vedere, non come nella realtà che è un po' di ruggine. Ce l'ha addosso. Ha fatto vedere una buona cosa. Fuorigioco. Madonna di Dio. Gol del Sassuolo! Gol del Sassuolo con Marega! Così. Così mi voglio. Va bene. Quadrado espuso per la prossima partita. Non è un problema. Abbiamo tre terzini. Metal e Niles non si sta ambientando molto bene, devo dire. Più che altro perché ha pochissima resistenza. Anche se a 80 non riesce a reggere il ritmo. Partita, ragazzi, fatta da noi, nel vero senso della parola. Non hanno fatto poco e nulla. E quel poco e nulla che hanno fatto è stato appunto segnare con Marega. Contro il Copenaghen, noi per forza di cose dovremmo vincere contro di loro. Quindi, non ho la rosa titolare a disposizione perché sono tutti stanchi. Adesso si può anche andare a vedere molto easy. Dovrebbero essere tutti piuttosto stanchi. So cazzo, invece, si va di a cazzo durissimo. Peccato poi ci sia il derby. Il derby contro il Genoa è sempre complesso. Però terrò la formazione B contro il Genoa. Vado a simularla e nel caso subentro io. Quella col Genoa vorrei comunque giocarla come partita. Calcio di rigore per il Copenaghen. Subito, eh. Non si faccia mancare nulla. Io veramente sono senza parole. Wind. O Wind. Penso sia Wind. Gol di Leao. Gol di Leao. Settimo gol in quattro partite. Gol del Copenaghen. Va bene. Dopo un gol in fuorigioco. Prova a scendere in campo e vedere se si può salvare. Io sto sentendo un fortissimo odore di Europa League. Che però al momento puzza parecchio, devo dire. Castrovilli, il tiro! È una mina vagante. Ma non abbastanza. Leao sei in mezzo da solo. Pareggio. Quello definitivo. Entrando a scendere qui. Allora. Ehm. Va bene. 2-2. Per come era messa la partita. Con pure il... Il rigore dopo 5 minuti. Va bene. 7 tiri in porta. Io ho paura. Seriamente adesso. Fammi vedere la mia squadra come è messa. Faccio dei cambi. La rata di Audero. Sono fortissimi. Gol di Damsgaard. Valla a prendere. Dai, su. Uno pari. Attenzione. Nunes. Goal! Goal! Cazzo! Falle su frontflip. Contropiede magistrale. Victor Moses. Pam. Via. Allora, goal easy peasy. Se non sbagliava, finiva fuori rosa. Cinque gol. Quinto gol in Serie A. Una volta che l'importante è come viene gestito il possesso. Va bene il tiki-tacca, eh? Facile. No, qua che merda. Non m'ha tenuto selezionato Nunes e io ho provato in tutti i modi a mettere Moses così tiravo subito. Invece. Prova a sorprenderlo. Oh, mamma mia. Nunes veramente sui tiri incredibile, eh. Porca puttana. Guarda. Ah, ho visto l'ombra sul palo. Castrovilli. Castrovilli, ti prego. 3-1! 3-1! Partita semi-nghiaccio. Vai. Vai dai tifosi. Guarda che palla. Guarda che palla questa. Che palla. Ragazzi, questo vi ho fatto rivedere. C'era tutti in avanti quelli del Giona per cercare di recuperarla. 4-1 nel derby. Questo scotta, eh. Guarda che palla. Pam. Era quasi fuori gioco, eravamo. Doppietta del Darwin nazionale. E infatti, comunque, Norman era andato all'attacco. Tra l'altro noi, prossima partita, ho visto che giocheremo contro la Roma. E l'episodio, per me, finisce con una bellissima vittoria. 4-1 nel derby. Andiamo a 25 punti in campionato. Vediamo se le altre prime della classe, chiamiamole in maniera così. Nunes, ragazzi. 11 tiri, 8 in porta. Innanzitutto. Andiamo a vedere la classifica di serie A. Perché dalla prossima partita dovrebbe esserci anche addirittura la Coppa Italia, prima o poi, no? Noi dovremmo giocarcela contro l'Atalanta, che ci ha battuto, tra l'altro. Andiamo invece a vedere la serie A. Se andiamo in serie A, al momento siamo terzi a 25 punti con la Roma, che non ha ancora giocato, e nemmeno la Juve. In realtà abbiamo fatto un anticipo, mi sa, noi siamo gli unici che hanno giocato assieme al Genoa e altre squadre. Siamo comunque momentaneamente terzi. Scaleremo probabilmente almeno fino al quinto o sesto posto, se le altre vincono. Quello che mi interessa è che la prossima partita sia contro la Roma. Andiamo a vedere un po' il calendario, per vedere il prossimo episodio più o meno. Prossimo episodio che avremo. Roma di fila. Roma-Ajax. Tostissimo da affrontare. Parma, che in realtà è più semplice come partita. Torino. Va bene, comunque vedremo nel prossimo episodio. Però sto vedendo che questa accoppiata Roma-Ajax non è affatto facile. Sarò molto e completamente sincero. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento. È stato un parto questo episodio per motivi X. Io vi saluto e ci vediamo un prossimo video. Ciao ciao!